Si dice che l'uomo è la metà di si è stessi, la otra metà è la sua espressione. Quindi cosa succede con un bimbo che non si è spesa o con un popolo che non si è spesa, può essere facilmente manipulato. Come essere il creatore della mia propria storia, come essere il mio stessi come progetto. Come condividere un spazio di necessità di creare la nostra propria storia, di essere i nostri propri soggetti, non essere oggetti di altri. E sono sicuro che con le mie mani io posso creare Enrique, piano piano, magari troppo piano.